Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Negli ultimi giorni, un velo di tristezza ha oscurato lo scenario politico italiano, toccandoci tutti con una notizia che ha lasciato un segno indelebile. Il cordoglio si è diffuso rapidamente al rivelarsi della scomparsa della giovane figlia di un'eminente figura del Partito Socialista Italiano, un evento che ha profondamente scosso la comunità. Sandro Principe, stimato ex deputato e amato sindaco di Rende, ha affrontato la perdita inimmaginabile di sua figlia, Rosa Maria, che ha lasciato questo mondo all'età di 41 anni, nel silenzio della sua casa, cedendo dopo una strenua lotta contro una malattia senza pietà. In momenti come questi, ci troviamo a lottare con i sentimenti, quasi incapaci di comprendere appieno la portata di una tragedia così grande. È con un cuore pesante e un senso di solidarietà incommensurabile che desideriamo avvicinarci a Sandro Principe e a sua moglie Wally, offrendo loro un abbraccio simbolico e tutto il supporto possibile nella perdita della loro adorata Rosa Maria.